Edder, Mech, Pallister. Il consulente Barzan al momento sicuramente lo ricorderete tutti per la capacità di schiacciare l'occhio ai suoi amici di quarto grado. Adesso però c'è un qualcosa in più che dobbiamo approfondire su questa persona. Le indagini sull'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre nel seminterrato del suo condominio, proseguono senza ancora aver indagati. Nel frattempo è emersa la notizia del processo per truffa, che coinvolge il consulente legale dei principali sospettati del delitto, la nuora Manuela Bianchi, il fratello Loris e l'amante di lei Luis da Silva. Si tratta di Davide Barzan, che è stato portato davanti alla sbarra a Rimini per un'operazione di compravendita immobiliare, avvenuta a Riccione in circostanze poco chiare. Il processo è iniziato lo scorso 9 gennaio e il prossimo 13 novembre, davanti al giudice monocratico Francesco Pio La Salvia, inizierà l'audizione dei testimoni. Barzan è difeso dagli avvocati Marlon e Ubaldo Lepera, del foro di Cosenza, mentre le parti offese sono assistite dall'avvocato Francesco Vasini, del foro di Rimini. Secondo l'accusa, Barzan avrebbe commesso una truffa, presentandosi come avvocato e vantando le sue abilità come mediatore. Inoltre avrebbe accompagnato le persone offese in un istituto bancario per definire le condizioni di un mutuo e avrebbe mostrato un fasso contratto preliminare di compravendita, ottenendo indebitamente una somma di 30.650 euro, come caparra per l'acquisto di un appartamento. Sono state contestate anche le aggravanti di aver causato un danno patrimoniale alle persone offese e di aver abusato delle proprie relazioni di prestazione d'opera. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!